Marti! Devi tornare indietro con me! Dove? Indietro nel futuro! Marti, di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? Diventiamo tutte e due degli strozzi! No, 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 sta tranquillo perché Jennifer andrà tutto bene, i vostri figli, Marti! Bisogna fare qualcosa per i vostri figli! Grazie a tutti!